amiche e amici di instagram sono in compagnia di quattro persone amanti appassionate del pastore maremmano abruzzese così che bisognerebbe dire vero jacopo si conferma doppio nome dal 1958 jacopo simoni titolare dell'allevamento professionale jacopone da toti assieme a lui una famiglia come testimonial della convivenza assieme a questo fantastico cane valeria cambrea ciao valeria ciao a tutti e paola e francesco moscariello ciao ragazzi da quanto in compagnia di nebbia bianca sono questi due pastori maremmani abruzzesi quanti anni sono tre anni che in cui ci state assieme e quali sono le tre qualità più grandi che loro hanno secondo voi tre aggettivi forza la dolcezza dolcezza ci può stare velocità a me che no quindi la giocosità vivacità mi permetto di aggiungere protettivi e protettivi ovviamente parleremo di questa fantastica razza rimanete con noi perché il live social a queste e altre sorprese anche qui su instagram il video è presentato da gsc scar ciao a tutti